Come mai Renzi non sta parlando di elezioni amministrative e sta parlando solo di referendum? Ce lo siamo chiesti, sta spostando il fulcro su un altro argomento perché evidentemente forse ha paura di perdere le elezioni amministrative, io questo non lo so. Io so che domenica si va a votare in comuni che loro hanno spolpato e loro stanno dicendo di voler risanare. Credo che in questo momento i cittadini italiani dovrebbero punire i partiti che hanno spolpato quei comuni, votando il cambiamento. Altrimenti si sentiranno sempre impuniti questi partiti, utilizzando i soldi delle tasse degli italiani per finanziare le loro campagne elettorali e le loro carriere politiche. Sempre a proposito di amministrative Renzi ha detto che il Movimento 5 Stelle parla sempre di onestà ma poi in metà dei comuni dove amministra ha i suoi... Il dato di queste amministrative è che Matteo Renzi parla sempre del Movimento 5 Stelle, evidentemente ne ha una maledetta paura e fa bene non per il Movimento Insieme, ma per tutti i cittadini che sono dietro questa forza politica sostengono il Movimento e vogliono mandarlo a casa. Fino a prova contraria a lui resta sempre un Presidente del Consiglio che non è mai passato per le elezioni, ha una coalizione che lo sostiene fatta da partiti che non abbiamo mai votato, un Presidente del Consiglio evanescente.